numero 5 questo timer da cucina ha un display lcd da 2,6 pollici che mostra numeri che si possono vedere anche a distanza ha una doppia funzione compreso l'orologio e il timer come orologio ha un display a 24 ore potete scegliere di fare il conto alla rovescia in minuti secondi o ore come volete il tempo massimo di conteggio è 23 ore 59 minuti e 59 secondi una volta che il tempo del conto alla rovescia è finito un forte cicalino suona per un minuto il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 4 questo dispositivo ha un diametro di 6 centimetri e uno spessore di 3,5 centimetri questo accessorio è salvaspazio e si può appendere al forno o al frigorifero grazie al suo retro magnetico il prodotto è molto resistente poiché è fatto di acciaio inossidabile per utilizzare questo timer da cucina magnetico basta caricare il timer fino in fondo anche fino a 60 minuti prima di tornare al numero di minuti desiderato l'uso è molto comodo con il quadrante e il sistema di marcatura del tempo trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 3 è un timer digitale elettronico e magnetico ha un grande schermo digitale lcd che può visualizzare chiaramente tutti i dati anche a distanza l'allarme è chiaro e forte e si può sentire anche in un'altra stanza è sempre possibile resettare il timer premendo contemporaneamente i pulsanti m e s il timer può contare fino a 99 minuti e 59 secondi grazie al suo supporto magnetico è facile da attaccare al frigorifero trovi il link di questo articolo in descrizione numero 2 questo modello ha un bel design con la sua forma rotonda e un bel colore molto pratico è un modello rimovibile che può essere attaccato alla pentola a pressione in cucina puoi usarlo per cronometrare il tempo di cottura dei tuoi piatti un segnale sonoro indica l'inizio del conto alla rovescia e un altro segnale informa che il tempo è finito si noti che il tempo di questo dispositivo è contato in secondi se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 1 grazie a questo timer da cucina sarai in grado di gestire il tuo tempo e lavorare in modo efficiente questo gadget è così facile da usare che chiunque può usarlo sia un bambino o un adulto il dispositivo è adatto a tutte le occasioni con un concetto semplice questo timer analogico visivo offre un conto alla rovescia di 60 minuti o meno allo scadere del tempo un disco rosso scompare in senso orario in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto